Davide Lepore inizia a lavorare nel mondo del doppiaggio all'età di sette anni, doppiando alcune serie animate giapponesi. In seguito ha doppiato numerosi film importanti quali Kramer contro Kramer, Shining, Stand by me ricordo di un'estate, quando l'amore brucia l'anima, nonché serie tv quali Buffy l'ammazza vampiri. Paso Adelante, Dazon Skrick, J.A.G. Avvocati in divisa, Roswell, rilevante la sua interpretazione del personaggio di Chris Griffin nella serie Cartoni Animati. Griffin, oltre che di Milus Van Houten e Simpson, dalla seconda stagione, in sostituzione di Giorgio Borghetti, e anche John Frink, dalla quinta alla dodicesima stagione, in sostituzione di Maurizio Romano, e di Wacco negli Animaniacs. Di recente ha anche lavorato come direttore del doppiaggio nell'adattamento italiano di Smallville. L'epore ha lavorato anche come attore cinematografico sin dai primi anni Ottanta. Ha inoltre lavorato nelle fiction italiane Don Matteo e Casa Cecilia. In alcuni video musicali e negli adattamenti teatrali di sogno di una notte di mezza estate. Titanic, I tre moschettieri e mezzo. Nel 2008 ha prestato la propria voce per le parti narrate del CD Le dimensioni del mio caos di Caparezza.